Eccoci qui, Festa della Repubblica 2 giugno, Piazza Venezia, Altare della Patria, Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, circa un'ora fa ha depositato una corona di alloro, il ricordo delle vittime ignote delle guerre italiane, il 68esimo anniversario della Repubblica che nel 46 appunto grazie al referendum fu proclamata e contrapposta alla monarchia che dopodiché nel 48 fu realizzata la prima Costituzione italiana, la Costituzione italiana che grossomodo, anzi credo sia proprio quella autentica che c'è ancora adesso e che va riformata, si è parlato anche di riforma costituzionale delle riforme ma i decenni passano e mai si mette mano a questa Costituzione, come per esempio ridurre il numero dei parlamentari. Tra i parlamentari c'erano oggi, abbiamo visto Cicchitto, abbiamo visto ministri come Alfano, abbiamo visto Gasparri, abbiamo anche ripreso, intervistato, abbiamo visto poi ovviamente Matteo Renzi, la Boldrini, Grasso, Presidente del Senato, Presidente della Camera, abbiamo visto la Boschi e tanti altri capi di Stato Maggiore, ovviamente Giorgio Napolitano e tanti altri. Come vedete grande festa qui alla Piazza Venezia, grande sole, molto di colore, molte persone e quindi una festa nazionale, questa del 2 giugno che comunque è abbastanza sentita anche se c'è crisi nei valori dello Stato. Sono anche ripassate le frecce tricolori, come abbiamo già detto, e questo ci ha fatto piacere perché comunque è sempre un bello spettacolo vederle, anche se durano pochi secondi il loro passaggio. Questo è tutto, quindi da Piazza Venezia, 2 giugno, ciao a tutti, arrivederci, grazie, al prossimo, ciao!